Ecco, Giancarlo Maculotti, avete in programma un importante convegno sulle vicinie. Sì, vogliamo comunicare a coloro che sono appassionati di storia locale e non solo l'importanza di queste istituzioni che erano delle istituzioni pre-comune moderno. Il comune moderno nasce solo in periodo napoleonico e precedentemente le amministrazioni erano in mano i capi famiglia che si riunivano un paio di volte all'anno per decidere rispetto soprattutto a due questioni riguardanti i beni comuni, vale a dire i boschi e i pascoli. E la gente viveva molto di questi due importanti radici dell'economia locale. Il convegno si articolerà con delle relazioni che sintetizzo brevemente. L'introduzione del professor Nervi dell'Università di Trento, poi una mia comunicazione sulla ricerca che abbiamo effettuato in questi giorni. Poi sarà il compito di alcuni studenti mostrare il lavoro che abbiamo fatto nelle classi in due licei a Edoro e a Breno. Poi tocca a Paolo Dentella sullo statuto di Pisogna e a Paola Trotti sullo statuto di Grignaghe. Sugli archivi di Corna interverrà Ivan Faiferri. Della vicina di Pisogna e complessivamente parlerà Giovanni Ernesto Fenaroli. Poi ci saranno due interventi importanti, due ricercatrici, Gloria Rosina Zampatti che ha fatto una ricerca specifica sulla vicina di Pezzo e Monica Masnovi sulla vicina di Cemmo. La seconda parte conclusiva del convegno è organizzata in collaborazione con il biodistretto e ci saranno degli esperti portati dal biodistretto per dirci quali sono le possibilità oggi di continuare alcune delle attività che già facevano le vicine nel passato.